Carissimi amici, poc'anzi ho fatto un video sull'abolizione della parola ormai, sulla rassegnazione e stava piovendo, stava in macchina e dicevo guardate che poi esce sempre il sole, come in effetti dopo un'oretta, vedete, è uscito uno splendido sole e quindi questo vuole essere un messaggio, vedete che dopo il cattivo tempo esce sempre un sole anche nella nostra vita quindi vi invito a vedere il video che segue e un video di speranza, non abbattiamoci signori me, vi lascio con questa bella panoramica, sono in questa villa comunale molto bella, c'è il Vesuvio qui sullo sfondo, quindi un abbraccio a tutti, ciao e mai dire ormai, mai dire ormai, ciao a tutti. Carissimi amici, il mio canale è seguito da tante persone anche di una certa età, questo mi fa enormemente piacere, la cosa che vi devo essere sincero mi dà più fastidio è quanto sento alcune persone, alcune amiche soprattutto, che hanno una sorta di rassegnazione, dicono una parola che io abolirei dal vocabolario, cioè la parola ormai, ormai, alle mie sollecitazioni si dice, ma vabbè ormai cosa fai, io ho una certa età, sono nonna, ho i miei problemi di famiglia, di salute, quindi che cosa vuoi che possa fare ormai, questa parola vedete andrebbe veramente eliminata perché ci posta tanti di quei problemi, tanti di quei problemi che noi dobbiamo superare, ci porta una qualità di vita soprattutto veramente brutta, noi quando facciamo delle scelte non dobbiamo mai rimpiangerle perché in effetti nel momento in cui le facciamo sono le scelte ritenute migliori in quel momento che poi dopo ci sono dei risvolti negativi, ma quello accade a tutti quanti noi, bisogna evitare questo tipo di rassegnazione, amici e amiche mie, perché non porta a niente, porta soltanto ad abbassare la qualità della vita, noi dobbiamo cercare, come dico sempre, le soluzioni in maniera spontanea dentro di noi, bisogna trovare, come dire, dedicare del tempo, dedicare del tempo a se stessi, prendersi un po' più cura, più cura di noi stessi, cercare di non avere obiettivi prefissati, sento persone che dicono io devo fare questo, potevo fare quello, potevo fare quell'altro, viviamo un po' più di istinto, cerchiamo di fare più le cose che a noi piacciono, purtroppo è una cosa che mi dispiace, vedete, oggi io sto qui fuori piove, ma non posso pensare che debba piovere per sempre, non piove per sempre, e così è anche la vita, ci sono momenti certamente molto preoccupanti, molto tristi, ma noi non possiamo essere fossilizzati imprigionati in quei momenti, dobbiamo cercare di dedicare, nonostante tutto, del tempo a noi stessi, facendo attività fisica, passeggiate, avendo un po' di tempo per noi, bisogna avere il coraggio di mettersi, di rimettersi in gioco, anche se si ha 70 anni, 60, 50, non è mai, bisogna togliere questa parola ormai, a me non piace assolutamente, qualcuno dice no, ma questo è il destino, non è vero, il destino non è scritto, non è scritto, il destino lo scrivi tu, lo scrivi tu con i tuoi atteggiamenti, con le tue azioni, lo decidi tu, non è che lo decidono gli altri, tu non hai un solo ruolo, noi non dobbiamo pensare di avere un solo ruolo, io sono la nonna, io sono la mamma, io sono la moglie, no, noi siamo tutto, siamo anche quello, vedete, io lo so benissimo, gli alibi ci sono tanti, ce ne sono tanti, ci sono lutti che segnano profondamente, che magari ci distruggono dentro, dei lutti familiari, oppure dei lutti morali, come perdita di amicizia, di divorzi, motivi di salute, a volte anche gravi, poi cosa succede, che quando si esce fuori un po' da questa situazione, si rimane segnati, in una sorta di rassegnazione, e quindi c'è quello ormai, invece no, noi dobbiamo lasciare spazio alla nostra unicità, vivere nel presente, coltivare le passioni, ognuno di noi c'è qualche passione, coltiviamo le nostre passioni, perché vedete, se non ci aiutiamo, cara amica, se non ti aiuti da sola, nessuno, nessuno potrà aiutarti, senza la tua voglia, la tua volontà, chi me lo fa fare, chi me lo fa fare ormai, no, persone, ho visto persone che invece ci hanno creduto, che vi devo dire, hanno cominciato a fare anche delle diete, a perdere peso, a curarsi un po' di più, non è che uno a 70 anni, o a 60, o a 50, poi no, ma io che fa, non è così, ci si condanna a una qualità di vita molto scadente, non ci si vuole più bene, in relazione alla proprietà bisogna fare un po' di attività fisica, bisogna coltivare le passioni, non bisogna mai segnarsi a una condizione che ci fa stare male, perché noi siamo creati per essere proiettati verso una vita serena, non dobbiamo dire, no, ma a me ormai è così, non ci posso fare niente, non ci puoi fare niente se non ci vuoi fare niente, ed è la cosa più che a me dispiace, non è mai tempo perso il tempo che noi dedichiamo a noi stessi, all'ascolto di noi stessi, noi dobbiamo essere quelli che non molliamo mai, dobbiamo essere quelli che vivono nel presente, che cercano motivazioni per fare cose che piacciono, nonostante tutto, nonostante le situazioni familiari, nonostante le situazioni di salute, che certamente uno relaziona la tua situazione, si deve curare al meglio, certamente alcune cose non si possono fare più quando si aveva vent'anni o trent'anni, ma questo non può essere un alibi, se uno sta in una situazione familiare che non piace, oppure magari sta solo perché ha perso il marito, ha i figli che magari non c'è un punto a posto, rimettete in gioco, rimettete in gioco, perché questa frase di rassegnazione, di dire ormai o chi me lo fa fare, è un qualcosa veramente che a me dà un fastidio enorme, un fastidio enorme conosco tante di queste situazioni, ma conosco anche le situazioni di persone che ce l'hanno fatta, perché a un certo punto si volta pagina, ci si mette davanti a se stessi, come davanti a uno specchio, e si dice, bene, io sono la moglie, sono la nonna, sono questa persona qui, sono anche altro, cosa mi piace fare? Mi piace fare questo, coltiverò questo interesse, e lo faccio, e lo farò, mi sono trascurato a livello fisico, non lo farò più, e quindi la qualità della vita migliora, migliorando la qualità di vita, cosa succede? Succede che migliora anche l'umore, certamente, bisogna rimanere in ascolto di noi stessi, vivere nel presente, non nei ricordi brutti soprattutto, questo è quello che volevo dirvi, cari amici e cari amiche, questo perché vedo troppa rassegnazione in giro, troppe mail in cui si dice ormai, 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 bandiamo queste parole dalla nostra vita, perché come oggi è una giornata di pioggia, poi uscirà sempre e comunque il sole, e il sole deve rimanere sempre come costante nella nostra vita, anche dietro le nuvole c'è sempre il sole. Grazie mille, un abbraccio a tutti, grazie mille del vostro affetto con il quale mi seguite e riempire di gioia le mie giornate. Un abbraccio, ciao!